a natale a natale si può dare di più perché buongiorno amici della zoccolo duro buongiorno 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 intanto vi iscrivete subito al canale lo zoccolo duro che mi guardate in 200.000 e poi non vi iscrivete quindi sotto iscriviti subito aprioso non inizio neanche a parlare e mettete pure il like e la campanella oltre questo oltre questo parliamo 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 del miram perché vedo che c'è una parte dei tifosi pochi per fortuna che difendono ancora gattuso quindi facciamo un'analisi basata sui fatti e non sulle opinioni perché così a me piace andare sul concreto vedete questo qua è il concreto mi piace andare sul concreto delle cose allora perché dico che è colpa di gattuso per una serie infinita di motivi allora partiamo dal presupposto che non sa fare i cambi questo penso che siano tutti d'accordo ha paura cioè inizialmente ha fatto qualche cambio allora li ha sbagliati poi adesso ha paura a fare i cambi ma ancora li fa più e quando li fa li sbaglia questo mi sembra vabbè non è un fatto però mi sembra abbastanza evidente quindi l'ho messo per primo poi parliamo di fatti i calci d'angolo siamo tutti d'accordo che noi non sappiamo battere i calci d'angolo questo vabbè è un problema che ci portiamo anche di quando eravamo la squadra più forte del mondo però non sappiamo battere i calci d'angoli l'Atalanta fa 10 angoli 4 gol noi facciamo 18 angoli non che non facciamo gol nemmeno la prendiamo di testa ma perché perché i giocatori partono già sulla riga di porta non c'è un movimento dentro l'aria sono statici sono lì fermi dentro l'aria e quindi è normalissimo che ti anticipano sempre tra l'altro appena è arrivato Gattuso io me lo ricordo appena è arrivato ha iniziato a fare quegli angoli che li batteva corti e poi li metteva in mezzo non che fossimo diventati fenomeni ma almeno c'era un movimento si muoveva qualcosa avevo anche la improbabile impressione che facessimo qualcosa di pericoloso adesso quando noi battiamo un angolo io sono preoccupato del contropiede cioè non mi aspetto di far gol sono preoccupato del contropiede questo per farvi capire che proprio manca il lavoro settimanale perché cosa fai tutta la settimana? non si battere neanche gli angoli e ragazzi i gol gli angoli come le punizioni perché i gol su palla da ferma nel calcio di oggi rappresentano il 30-40% forse di più forse di più è una bella fetta ragazzi vuol dire che su 10 partite 3 o 4 le risolvi così 3 o 4 3 o 4 sono tantissimo quindi partiamo da quello parliamo del gioco difensivo di Gattuso lui gioca un gioco difensivo a coprire le linee di passaggio fa tutto un lavoro difensivo per la quale poi non attacchiamo e non offendiamo mai e non siamo mai pericolosi fa tutto un lavoro difensivo nel quale nel quale nel quale prendiamo gol tutte le partite noi tutte le partite puntualmente prendiamo gol in un modo, nell'altro, nell'altro prendiamo sempre gol questo perché? perché tu ovviamente non sai difendere ti muovi male sei sempre vicino alla nostra porta basta un minimo errore e prendi gol ma non è che è colpa del giocatore che fa l'errore è normalissimo che in una partita prima o poi un errore lo fai solo che se tu fai l'errore davanti alla nostra aria come si è già sui ieri a Calabria prendi gol se fai l'errore a centrocampo magari non lo prendi il gol e quindi anche la fase difensiva un disastro la fase offensiva non segniamo da un mese e quelle volte che abbiamo fatto gol quasi casuale il capocannoniere tra un po' è Romagnoli quindi mi fa capire quanto siamo un disastro anche tra l'altro gol di Romagnoli nemmeno su calcio da fermo cioè che lui è preso è andato il partito è andato su alla disperata alla disperata questo ti fa capire ragazzi che manca proprio un'impronta di gioco io gli voglio bene a Gattuso non è che ce l'ho con lui cioè non mi va di scrivere Gattuso vattene però gli dico Gattuso siccome sei un fratello rosso nero devi renderti conto che probabilmente te lo auguro diventerai un grandissimo allenatore ma oggi hai troppo da imparare e non puoi imparare al Milan al Milan devono arrivare allenatori già pronti già pronti non puoi fare scuola all'accademia dell'allenatore al Milan ragazzi è così vai come ha fatto il buon Pippo vai a Bologna vai a Venezia ti vai a fare un po' di gavetta impari che ancora ce ne ha da imparare pure Pippo impari quando diventi e se diventi un grande allenatore allora torni al Milan ma non adesso ti bruci tu bruci la squadra poi oh noi non abbiamo un allenatore da allegri da allegri che non abbiamo un allenatore tutti i ex giocatori Sedo Finzaghi Gattuso un altro deficiente di Montella ma noi prendiamo un allenatore un allenatore a me questo Wenger gira il nome di Wenger non è che mi piaccia Wenger non ha mai vinto niente in carriera 200 anni a Larsen non ha mai vinto niente poi non conosce il calcio italiano gioca non lo so a me non è che mi piace piuttosto facciamo venire l'Eletto che è un altro ex giocatore pure lui infatti sinceramente non voglio nemmeno l'Eletto è Donadoni sinceramente non vorrei nemmeno Donadoni nemmeno lui vorrei bastare un allenatore ragazzi ma un maran qualunque un cioè un allenatore di calcio semplice semplice che fa le cose semplici tanto quarti ci arriviamo a proposito quelli che mi dicono no il problema è la squadra gli infortuni infortuni allora gli infortuni sicuramente sono un problema è quello va bene e infatti non siamo secondi terzi perché sennò saremmo lì senza infortuni secondi forse no ma terzi si siamo quinti ok ma la squadra rendiamoci conto con chi abbiamo perso punti dato che dite che la squadra abbiamo perso punti con l'Empoli col Bologna col Torino in casa con la Fiorentina in casa cioè ragazzi noi abbiamo perso punti con squadre con squadre che dovresti battere agevolmente 2-3-0 dovresti battere e invece noi perdiamo punti e tanto adesso abbiamo spalle Frosinone e noi perdiamo i punti e con Genoa e Udinese Genoa e Udinese hai segnato al 94esimo Romagnoli al 90 il creatore dell'Arcobaleno al 94esimo quindi il problema è la qualità della squadra posso capire la qualità della squadra se tu giochi con con le tue rivali con la Roma con la Lazio con l'Italia anche con la Roma al 93esimo abbiamo segnato e perdi 3-4-0 perché dici cazzo quelli sono nettamente più forti invece no invece no con le piccole anche con le riserve dovresti vincere agevolmente che poi con le riserve adesso ne mancano 3 di titolari è tornato anche Conti speriamo che è tornato già ieri quando l'ho visto anche se ha perso due palloni ero già innamorato di Conti ero già innamorato speriamo che è tornato già tutto un altro passo tutto un altro passo quindi ragazzi non ci sono più scusanti il problema è gattuso adesso mi dicono se fa 6 punti se no lo mandano a casa ma che cosa mi serve aspettare queste due partite non serve non serve aspettare queste due partite primo indipendentemente dal fatto che le vinca o meno anche se le vince anche se le vince comunque è limitato come allenatore deve andare via quindi se non va via adesso va via Giugno siccome rimanendo adesso andiamo a rischiare un quarto posto che sarebbe agevole per questo mira dovrebbe essere agevole lo andiamo a rischiare perché lui è limitato mi sembra una cosa stupida anche perché lo fanno diventare importantissimo questo quarto posto e quindi non possiamo rischiare se non fai punti sei andato a perdere altri punti tanto vale lo esoneri subito io spero che stiano aspettando solo ed esclusivamente perché devono trovare un sostituto e quindi hanno bisogno di tempo sei Natale la vigilia eccetera e devono aspettare un sostituto ma anche lì società non è da oggi che scopri che Gattuso è limitato ormai ha avuto un percorso l'unica cosa positiva è che la squadra è con lui quello si sa tenere il gruppo perché lui è sempre stato un uomo spogliatoio quindi può stare nello spogliatoio e prendiamo un allenatore però perché ragazzi questo è può fare il lavoro che faceva Biatti l'anno scorso che tra l'altro non ho mai capito che lavoro realmente facesse poi infatti se n'è andato fa da collegamento tra la squadra e l'allenatore quello può fare quello può fare Gattuso ma a oggi non può essere l'allenatore del Milan mi dispiace Gennaro lo sai ti voglio bene però dovresti essere tu stesso a rendertene conto che il problema suo che lui studia perché lui è uno che studia non è un deficiente Gattuso studia sui libri studia le tattiche i movimenti di qua di là ma il calcio si gioca sul campo e le cose sono completamente diverse sul campo completamente diverse tutto quello che ti studi sui libri poi non è uguale sul campo siccome ci hai giocato e lo sai e lo sai probabilmente non avendo mai avuto quella fantasia che dovresti avere nella tua testa c'è vabbè poi davanti si inventeranno qualcosa questa è la sua fantasia in realtà non è così ovvio che se hai il caccio il cenco eccetera lui costa si inventano qualcosa comunque siccome non ce li hai siccome non ce li hai per inventare qualcosa intanto devi avere degli schemi dallo schema con movimento allora ci può essere l'invenzione ma se sono tutti fermi statici ogni volta e facciamo sto giro e torniamo indietro che cosa ti vuoi inventare anche Pipito ogni tanto io lo vedo lui prende palla che proprio non ce la fa insofferente prende salta 3-4 uomini ma a centro campo perché la palla lui la riceve a centro campo ragazzi Iguain quelli che se la prendono con Iguain quello arriva a centro campo prende palla in mezzo da solo praticamente perché non ha nemmeno lui l'unica cosa che può fare è scaricarla dietro perché non ha nessuno nemmeno che si muove là davanti da solo in mezzo tra la difesa ogni tanto prende ne scarta 3-4 poi alla fine cioè ragazzi ogni tanto riesce ad arrivare anche al tiro come con l'Olimpia Cos che ne ha scaltati 3 e ha dato al tiro ma ragazzi poi ci credo che è sbogliato e si rompe le scatole ma io mi meraviglio che non abbia fatto proprio un faccia a faccia con Gattuso secondo me anzi dovrebbe avere più personalità andare da Gattuso e dirgli oh hai rotto le scatole qua dobbiamo lavorare durante la settimana cioè lui lo sa come si lavora durante la settimana per i movimenti dell'attacco cioè dovrebbe essere lui stesso io mi meraviglio che lo spogliatoio sia ancora con Gattuso cioè i giocatori sono ancora con Gattuso io mi meraviglio di questo perché io fossi un giocatore io vabbè era giocatore ero sempre stato uno che con gli allenatori lasciamo perdere ho sempre giocato però ho sempre avuto da rompere le scatole io rompevo sempre le scatole a tutti gli allenatori perché dovevano dare sempre di più però non ti dico che doveva essere come me però io cioè ragazzi qua è il vostro lavoro è la vostra carriera che è in ballo perché poi risulta quasi che è colpa del giocatore ma non è così non è così e vedrete che è cambiando allenatore che poi Gattuso quest'anno ha fatto più punti di spalletti questo per farvi anche capire che le avversarie sono poca roba pochissima roba anche ieri l'Inter che va a pareggiare col Chievo Verona ultimo in classifica ragazzi gli avversari sono poca roba loro pensano di essere 100 volte più forti ma sono lì sono poca roba anche gli avversari tranne Napoli e Juve che viaggiano le altre sono poca roba basta veramente poco noi dovevamo essere sopra l'Inter oggi dovevamo essere sopra l'Inter non segniamo da un mese pareggiamo col Torino in casa pareggiamo col Bologna perdiamo con la Fiorentina eri sopra l'Inter a quest'ora e invece siamo tanto adesso c'è Inter-Napoli noi giochiamo col Frosinone con la Spano mi ricordo che Frosinone mi pare eri strasopra e invece sei là sei dietro va bene ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate e quello che pensate dovrebbe essere Gattuso per favore lasciaci in pace cambio allenatore non ditemi che è colpa della squadra ragazzi non ditemi che è colpa della squadra sicuramente noi abbiamo bisogno di migliorare la squadra siamo abituati ad altre cose sono d'accordissimo con voi ma per arrivare nelle prime 4 non è un problema di squadra abbiamo una squadra che può tranquillamente arrivare nelle prime 4 non stiamo lì ad aspettare che la Roma torna perché adesso con Gieco e Perotti la Roma torna io ve lo dico sono a 3 punti con Gieco e Perotti la Roma torna poi a gennaio si muoveranno anche sul mercato dovrebbe rientrare anche Pastore mi preoccupa più la Roma della Lazio perché la Lazio è pazza e vediamo anche a gennaio se non parte qualcuno della Lazio non dico niente che poi mi arrestano va bene ragazzi iscrivetevi al canale condividete Instagram lo gioco l'odore 2017 ci vediamo domani domani faccio la cura di Natale dai oggi ancora 23 ciao belli ciao 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 ciao